Oggi andiamo a parlare di una combinazione di due trattamenti estremamente interessanti, ovvero l'associazione di filler Radiesse, idroseapatite di calcio, utilizzato iperdiluito, quindi andando a massimizzare l'azione biostimolante attraverso la stimolazione della produzione di collagene e all'inibizione delle collagenasi che vanno a degradare il collagene appunto, e associandolo alla tecnica set filler, cioè la terapia autologa rigenerativa attraverso il proprio tessuto. La combinazione dell'azione biostimolante e rigenerativa del set filler dà i massimi risultati nell'invecchiamento cutaneo e nella cura dell'invecchiamento cutaneo. Naturalmente tutto questo l'abbiamo dimostrato con lavori scientifici che abbiamo pubblicato a livello internazionale e adesso vi faccio vedere come avviene questo trattamento, estremamente semplice, sicuro e che dà risultati estremamente efficaci e naturali.